ciao barbie family e bentornati in un nuovo video tema non lo so questo è Temu ecco uno è Temu e uno è Shane non girare i pacchi perché se no c'è l'indirizzo iniziamo queste le ha presi papaluca vediamo cosa si è preso spiona spiona eh vabbè dai si vedrà il video non dovrebbe essere giubotto esatto è giubotto ha preso un bomber un bomber bomber nero sembra che le braccia un po' forte ma vabbè c'è qualcos'altro dentro ah questo è Shane Shane Buffett Shane mutante zebrate ma dove deve andare quelle mutande zebrate zebrato uno due vabbè cinque mutande di più boh andiamo avanti velocemente l'altro pacco quello di Alessia eh che sembra 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 oh quelle è Temu allora anche queste temu no quelle è Shane quelle è Shane e quelle è Temu anche qua ci sono più roba un cappello un cappello in pelle ma è bello è bello è bello il cappello del pescatore al contrario Brooklyn si è quello davanti c'è uno ci scureggia e queste le ciocche cosa sono scusami che fuoriescono dal dietro è così cosa per fare sigarette quello per tirare i bossi dalla macchina ma cos'è per la macchina di barbie è piccolo è piccolo vabbè funzionerà funzionerà e chi lo sa vabbè è piccolo eh e un altro riporto beige vabbè è quadrato dentro vabbè sembra anche il vino della pioggia apriamo questo? vabbè ma c'è un pazzo no non si vede tanto dai ti passo io ripeti anche io voglio quella felpa così ma questa è la felpa così mi fai le gocce veline ah si guarda che bella la felpa di spiderman rossa con la ragnatela il cappuccio c'è? il cappuccio c'è ah non è quella che volevo io però eeeh c'è la ragnatela quando si chiude ma lui mi sta pensando le orecchie dietro è ok così c'è quella di roscia via qualcosa di non nero guantini ancora ancora guantini ma ma non sono quella delle ecco scaldamuscoli? ancora? scaldamuscoli? sono elasticizzati mamma vai mamma simona vuoi elasticizzare ma quanto vuoi cioè non sono quelli delle mani no vabbè vavus avanti senza inducere ma io non li avevo prendi questo colore però va bene d'ultus infundus qualezza non si vede mai nel video? un'altra serata di spiderman? vera? no i pantaloni di spiderman l'ha preso con la ragnatela e la gomma che scorreggiano io eh ok quale sono? vabbè neri voilà poi cover per il cellulare anagono flower garden con i fiorellini e trasparente aspetta voglio vedere provala ha abbandonato i ma alessia ma avvicinati nel video non ti si vede si allontana da dietro e metti non lo so io così non si vede mamma si mi vedo mentre per cui io mi avvicino vabbè questo questo lo tengo io eh la mia nonna l'osa lo sento Passa con i chicchettini delle gambe Le ossa 10 minuti del tuo avvio Siete minuti qua Ma che cos'è? Questa roba Quello del telefono mi sa Ah il gancetto del telefono Il più grande del telefono Fiorellino Stray Kids Ah si Ah tutti i loro animaletti Sì Con dietro la setta di Stray Kids Le cow Fai Dovremmo essere così Ma è quello? Ma funziona così? Ma non doveva essere così Ma è quello? Sì ma non doveva essere così Doveva vedere le orecchiette Sì? Sì Ma c'è una stagione qua dentro Questa roba Ma sono degli adesivi Cos'è sono? Ah si Ah si spiega Sì Square sticker Quindi la fattoria mia Non è arrivata Quindi la fattoria mia non è arrivata No è normale No è normale La maglietta spada Se me la felpa spider man Poteva non mancare la collana di spider man È certo Non me lo ricordavo Vabbè Adesso gli compro quello lì Il gioco del bambino Ce l'ho già Ce l'ho già Che spara nella mia tele E va in giro così Tenga Anche la portina Ah te lo docelevo Cos'è? Colo del tele Prima metti dietro Ah La farfalla Pensavo che prendevi spiderman La farfalla No perché c'abbina la cover Ah È tutta abbinata la cover Ah hai preso il campo con le farfalline Ah le calze Di spiderman Ah Beautiful 98 Bianche con le scritte Il numero E vai a lavare Ah ok I rotoli della Stampante Stampante termica Che non so dove è finita Forse qua sotto E' giusto I guanti Giusto Mancavano Mancavano i guanti di spiderman Qua sono troppo grandi Guarda un po' I guanti di spiderman Perché giusto Che mancavano E quindi Accattiamoli Ma che si mette Domani Domani Eh domani Ti 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 catturo un po' Di ragni No grazie Giusto per la casa Le unghie finte con la foglia Giusto in tema Giusto in tema con la cover Ah Che dove è una foglia E' un bacio Un bacio mi sembrava una foglia Guarda E poi c'è l'ultimo pezzo Che vedeva prima meglio L'ultimo pezzo Una scatola Non c'è più niente Scarpi di spiderman Le scarpe Le scarpe Devo vedere se mi stanno Vabbè che numero hai preso Non esiste il numero qua 38 Black 40 c'è scritto 40 Numero 40 hai preso Ma che 40 C'è preso 38 Fammi provare Aspetta fammi citare il numero Ma dove Ah 40 hai preso 40 Ma io ho preso 38 eh Oh signore Niente Questi sono tutti a questi Adesso E' un po' Senti come lo so bene Questa è per quando me la porto a scuola Perché magari mi rompono la nuova Adesso che sei kid Bene amici Entra Alessia E' la mia la tua La tua Con questo video è tutto Stavo guardando Vieni nel video Noi ci salutiamo E vi diamo appuntamento al prossimo video Mi raccomando Mettete like Iscrivetevi al canale E' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.